benvenuti a tutti e benvenuti di MitsuSkipWord e oggi con la... no, la rampa giù vediamo, aspetta, vediamo se è il gioco non ce ne sono allora, sto provando a vedere un attimino, vabbè, va a uscire via allora, cambiamo macchina in un giorno ieri mi sono riuscito a fare la MitsuBishi Eclipse facciamo anche bella modificata, vabbè però prendiamo questa qua, che ho modificato anche questa ci ho messo qua la bandierina italiana, vabbè, quello è un altro conto non ho preso quello giusto, però va bene comunque pensavo di farmi più accorse che altro allora, power up console, prima cosa nei pursuit, si mettiamo questo qua anziché quello che mi fa esplodere via la polizia e qua va bene eh 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 su, aspetta vabbè, dai vediamo se l'ha salvati vediamo se l'ha salvati si, ok mi faccio subito vedere come ho fatto a farmi a MitsuBishi velocemente join multiplayer teleport e vi faccio vedere anche la mia, diciamo, mappa preferita per ora non è necessaria la mia, mappa preferita per ora dura nulla proprio sta gara, neppellina però dopo attenzioniamo con la mia macchina proprio dai su su qui mi sembra che c'era delle buone mode per il drag ho sbagliato postare giusto, postare giusto postare giusto postare giusto almeno non sono ultimo avevo sbagliato prima perché ho messo subito la seconda e darà 1400 punti e dura nulla questa modalità per formare pezzi e cose varie ci sta benissimo per formare soldi invece è lunga come cosa, devi azzeccare la carta giusta e tutto quanto aspetta io ho la macchina mezza spaccata risolviamo subito questo problema poi customization raw performance c'ho qualcosa buono nell'inventario 1,2 2 no si patate engine ok cambiamo subito sull'engine sui freni invece no questi sono più buoni 4 4 e questo da 4 4 44 ed 2,2,3 1,2,3 1,2,3 stella e 1,2,3 1,2,3 1,2,3 posso fare nulla, quindi continuiamo così nel frattempo ci facciamo un bel giretto ah vi avverto, vi si spaccherà più semplicemente la macchina i tizi di prima non giocareggiato, ma mi mi qua potete mettere automatico o manuale, io vi consiglio manuale, forse che premete schifte strada a posta, l'automante non l'ho mai prego data ma non cede ancora meglio è un medic questo qua bellino bene, si parte sono già pronto dai, su, su, su si parte partenza perfetta no ma super go di poco vedete non so per 1.500 800 cash potrebbe darvi 800 oppure 8.000 cose così ok va bene, basta quello che vi volevo far vedere ve l'ho fatto vedere quindi safe house potrei stare qua ancora per ora non mi stancherei sinceramente però prendiamo questa voglio provare a rifare questa caretta è Questo qua è di Need for Speed, ma ricorda, c'è un dimostrato. Eh, non mi ha detto una mazza, però così. Dai, riproviamo. Abbiamo qua un finale. Dai, non è possibile. No, non mi ha detto. No, non mi ha detto. Supervisore requesting you set up a quadrant ASAP. Suspect believes the state is over in the area. Unite patrolling in the area, go further down, please. I'm coming up. 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 soli. Quindi adesso dovrei aver guardato niente di più. Sì appunto. Ah mi dò pure che cosa tira qua. Dai ne facciamo un'altra. Sì appunto. Vamo. Vamo. Tampoco facendo. Vamo. Vamo. abbracciare ok vabbè un altro ho appena attivato Jager, quindi vado finissimo che c'è un attivato che c'è un attivato vabbè Non c'è nessuno. è stato un attacchio è vero prima volta l'accento E' un'fusione che si è furto Non, non è il 2 e così da 5.000 e dovrebbe essere il livello di ricercato più alto quindi dai facciamo una confusione della macchina in acqua però mentre esplorrete il mondo non vi diranno assolutamente e poco non mi sono schiantato malamente cos'è questa macchina? bellissima anche stranissima potrei arrivare a secondo? se vabbè che è sta cosa? sono partita a rallentatore gareggiamo ancora lo chiederò facile la vittoria che c'entra? 23, 22 non c'è gente dai su partita 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 no non era quella sì vabbè i potenzialmente per il drag sono un po' leggermente OP quello là si è fatto metà mappa solo con un os ma poi vabbè dai diciamo che per questo no aspetta 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 me ne faccio un'altra con la change car e buttiamo su e a mitsubishi ancora no perché non è adatta non è ancora pronta per i corsetti deve fare ancora un po' di jogging ancora i tizi di prima uno è quello di prima gli altri no mi devo fare anche una macchinetta per gli escape mi piacerebbe e vabbè quanta gente quanta bella gente sembra una faccina arrabbiata questa così sembra una faccina arrabbiata dopo dopo me la frego pure questa idea dai su su terza cavolo dopo che non è una seconda next skip next salgo di livello? non si sa si sono salgo di livello basta tip e sono arrivato al 12 quindi boh al prossimo video ciao ciao aspetta vediamo qualche macchina una porsche un Lamborghini una Corvette che mi volevo prendere io erano il nero certo un altro Lamborghini però me lo riconosco solo per la fuori l'Audi la Toyota sopra questa non capisco è una McLaren allora vi ho il driver tutto mezzo per tre l'f1 si allora c'è un paio di macchinette questo tutto dai diciamo che per questo video tutto aspetta prendo l'altra macchinetta giusto per farla vedere non per l'altra se no rimane qua in garage a farla muffa il rumore di questa look non mi piace di più effettivamente subisce clips se no rimane qua in garage era giusto per farvi vedere un po' i cambiamenti alle varie macchine ora andrò a registrare poi diciamo probabilmente un mini torneo interno nostro di pokemon cosa però si dovrà vedere un po' organizzare perché mi sa che sarà un torneo con 3ds quindi a vela di fra dovremmo metterci a bridarci pokemon perchè vogliamo fare una determinata fascia di pokemon che possono combattere con noi eeeh ovvero ma non ve lo spederemo ve lo spederemo poi tra adesso ditemi come vi potrebbe sembrare un torneo interno tra me le di fra chip e pepo aspetta non hai detto io le di fra chip e pepo basta non solo noi qua potrebbero intervistare un po' forse anche lui però non non c'è abbiamo abbiamo sesto e lui non sa almeno però non ancora non sa per farlo benissimo ma magari si sa farlo vedere non lo so quindi boh alla prossima ciao ciao